Luca, a Valzania intanto quanto è dura star fuori? Abbastanza, soprattutto un'espulsione un po' da polli diciamo. Ti sei un po' pentito? Sì, sicuramente rivedendola, capito. Poi ci poteva stare come non ci poteva stare che l'abito mi abbia dato l'espulsione, però sicuramente rivedendola potevo risparmiarmi con l'entrata magari. E dispiace tanto perché sicuramente domani è una partita importante e dobbiamo assolutamente vincere per tanti vari motivi e quindi c'è molto rammarico da parte mia a star fuori. Tu hai parlato di partita importante, probabilmente sarà proprio determinante anche per il futuro di qualche giocatore, dello stesso tecnico. Sono consapevoli, siete consapevoli di questo? Sì, però secondo me non ci dobbiamo creare così tante pressioni, secondo me, perché secondo me se ce le creiamo succede poi il contrario, che ci viene paura, ansia. Secondo me dobbiamo fare la partita come siamo in grado di fare. Poi sicuramente in settimana abbiamo lavorato magari su alcuni errori che stiamo commettendo ripetutamente. Ne dici uno di questi errori? No, sicuramente manca il fatto della concentrazione. Secondo me in questo momento, non dico l'errore, però il nostro, come dire, dove manchiamo di più. Qualche disattenzione di troppo, comunque manca la continuità per tutti, 90-95 minuti. Sì, giustamente, perché secondo me è quello che ci fa commettere poi errori che sono più a livello personale magari che a livello di squadra, capito? E quindi noi li mando quei piccoli errori che comunque piano piano magari non tutti riusciremo a, in una settimana, essere riusciti a colmare. Però io credo che domani faremo una gran partita e spero che davvero sia una bella partita che riusciremo a portare a casa i tre punti. Un flash sull'avversario, questo Novara, che secondo i numeri fa più punti in trasferta che in casa. Questo può essere un vantaggio perché magari vuol dire che se la gioca o comunque fa un tipo di gioco magari puntando sulle ripartenze. Oppure preoccupa un po' la formazione biancazzurra? No, sicuramente dovremmo stare attenti perché non è una squadra buona, comunque con valori importanti e come detto te, se i dati le specchiano che fuori casa fa più punti rispetto a che in casa loro, vuol dire che le preparano magari in modo migliore e magari usano più le ripartenze, usano più i contropiedi e ci aspetteranno. Sicuramente noi dobbiamo stare attenti in quelli e non subire tanto e sicuramente magari se andremo in vantaggio fare in modo che non accada come nelle ultime partite che ci facciamo rimontare spesso. Quindi secondo me dobbiamo usare la concentrazione, la testa e poi giocare come sappiamo.